La fotografia, come la vita, è fatta di scelte. E scegliere non è mai semplice. Ci chiediamo quale sia il soggetto migliore per esprimere la nostra sensibilità. Quale sia l'inquadratura perfetta. Quale sia il mezzo adatto per tradurre le nostre idee in immagini. Ho scelto il paesaggio suggestivo di Santorini, meravigliosa isola greca. E ho scelto di raccontarlo con la nuova Fujifilm X-Pro3. Ideale per questo viaggio, grazie al corpo macchina in titanio con rivestimento in carbonio, che crea il perfetto connubio tra leggerezza e robustezza. Veloce e reattiva, con una resa cromatica unica nel suo genere e un'anima profondamente analogica. Fujifilm X-Pro3 offre una visione differente, grazie al design che regala la sensazione di rivivere la fotografia più pura, con tutti i benefici dell'innovazione digitale. La fotografia mi ha permesso di esprimere me stesso. Mi ha dato la libertà e la responsabilità di selezionare istanti privilegiati e di farli sopravvivere nel tempo. Tutti noi abbiamo bisogno di esprimerci. È un'esigenza viscerale che parte dal profondo. Io ho scelto la fotografia. E ho scelto di camminare decine di chilometri anche solo per uno scatto, per vedere concretizzata una mia idea, per respirare la sensazione di poter esistere oltre il tempo e lo spazio, in una dimensione immutabile, atemporale, creata da un'immagine. La fotografia mi ha permesso di esprimere la mia sensazione di poter esistere oltre il tempo. La fotografia mi ha permesso di esprimere la mia sensazione di poter esistere oltre il tempo.